L'associazione culturale isolana DILA ha stretto una nuova collaborazione con l'associazione nazionale Eudonna, movimento federativo femminile, ma scordiamoci Bruno Mancini. Si allunga l'elenco delle collaborazioni nazionali e non solo dell'associazione DILA con Bruno Mancini alla guida, infatti vi presentiamo questo accordo con il movimento Eudonna che poi è rappresentato in questo magazine trimestrale. Bruno, com'è nata questa cosa? È nata attraverso un incontro con la presidente di Eudonna, l'associazione a livello nazionale per la difesa dei diritti delle donne, Giovanna Sorbelli, la quale è stata interessata dai nostri progetti e ci ha messo in contatto con Maria Piaciaghi, che ringraziamo ovviamente, che è titolare dell'editore Il Sextante. L'editore Il Sextante produce questo trimestrale e naturalmente ha anche alcune collane di libri, eccetera. Sia in questo trimestrale sia nel collane di libri noi abbiamo uno spazio abbastanza importante e determinante, perché nel trimestrale abbiamo quattro pagine, di cui cureremo la direzione relazionale completamente e invece come editori creeremo una collana di poesia al femminile nella quale avremo qualsiasi tipo di indirizzo, daremo tutti i tipi di indirizzo. Roberta Panizia curerà la direzione artistica dell'una e dell'altra e Silvana Lazzarino, che in effetti poi è stata con lei che ci ha messo in contatto direttamente con queste persone, continuano ad essere da tramite tra noi e l'editore, la presidentessa di Odonne. Questo fatto rappresenta un passo in avanti ulteriore dell'associazione DILA? Penso che a questo punto non ci sono più dubbi che DILA ha un rispetto per quello che sta facendo, sta acquisendo un rispetto a livello nazionale. Diciamo non solo nazionale. Diciamo non solo nazionale, perché se vogliamo parlare dell'Ucraina, della Lettonia, dell'Australia, della Spagna, siamo comunque abbastanza forniti di amici e di collaboratori. Qui è importante perché questa rivista poi verrà anche distribuita a Dischia e quindi possiamo in qualche modo incrementare quelle che sono le notizie che vengono dall'isola Dischia a livello culturale, naturalmente, senza voler entrare nei vettegolizi o in altre storie che non ci riguardano.